Sono di frettissima e immagino anche voi, quindi vi ruberò solo 5 secondi per dirvi che il 15 dicembre ore 17.30 presso il Mondadori Bookstore di Piazza Sciano a Osta, ci sarà la presentazione del mio libro. Non ho tempo, brevi racconti per trovarlo. Se anche voi, come me, non avete un minuto libero per staccare la mente tra un impegno e l'altro, questo è il libro che fa per voi. Vi aspetto. Ehi, sono di frettissima, c'è fascia.